buongiorno a tutti seconda partita del girone della quarta edizione della Lazio Cup categoria 2011 il Benevento uscito sconfitto 1 a 0 contro la Vigor per Conti gioca adesso contro la S Roma Francione sul pallone mettersi in barriera ad Alessandri batte Francione verso la porta pallone che non va lontanissimo dalla traversa difesa dalla corte lancio in avanti Francione toccato duro da Kepinski calcio di punizione per il Benevento De Spirito cross verso l'area di rigore attenzione a Fatao di testa mette alto sopra la traversa occasionissima per il Benevento la gamba alta che di Kepinski ha rischiato qualcosa centrale della Roma poi la ripartenza fallita dai giallorussi Chiero ancora l'indietro da Bonanno lancio lungo di Bonanno attenzione a Fatao che scappa alle spalle di Zagaroli Fatao va in porta e ancora la corte a dirgli di no e poi fallo di Francione se rilancia in avanti dovrà controllare Palocci che manda per D'Alessandri riesce ad arrivare in anticipo su Bonanno recupera il Benevento che riparte con Bonanno valla in mezzo al campo recupera la Roma con la conclusione subito di Fiore avanti appena entrato sigla e gol dell'1 a 0 per la Roma nel momento di difficoltà sembrava in controllo il Benevento va avanti la Roma ancora rimessa per la Roma che prova ad andare in avanti con il numero 40 Viti bagna forse un tiro dalla bandierina e così calcio d'angolo per la Roma passione dalla bandierina per i capitolini palla verso l'ora di rigore direttamente in porta è qui indecisione di Bonanno che non riesce a buttare fuori il pallone raddoppia la Roma 2 a 0 all'indietro è uscito il pallone sul controllo di Casali quindi rimessa a Benevento quando siamo a 5 minuti dal termine Roma avanti 2 a 0 grazie alle reti di Fiore avanti e Parenti adesso Kepinski, Casali centrale Fiore avanti ancora all'indietro pallone per Zagaroli che va verticale De Spirito anzi era il numero 2 Bovio lo recupera un attimo per il Benevento poi Palocci prova ad andare in porta la parata di Bonanno e la corte recuperare palla verticale Fioravanti anticipato bene in mezzo al campo prova a ripartire il Benevento poi Kepinski riesce ad arrivare in chiusura due volte scappa via Kepinski limite dell'area Kepinski prova a mettere dentro Denita riesce a chiudere poi la conclusione di Kretara deviazione calcio d'angolo per la Roma quindi Denita manda verticale Casali recupera però ancora in pallo laterale per il Benevento qui Denita Kepinski Fioravanti trattenuto un po' alle spalle Fioravanti lascia andare l'arbitro allora Kepinski prova a ripartire anticipato da Busiello torna sul pallone poi il 40 della Roma Viti che prova a mettere dentro sul secondo palo Kretara miracolo di Bonanno Rimessa per il Benevento già battuta Busio centrale Busiello prova a mandare verticale recupera Kepinski quindi Kretara si allunga un po' la sfera gestisce bene il numero 8 Stravino del Benevento Stravino allarga sul centro-destra pallone troppo lungo per Lauri e finisce qui tra Roma e Benevento Benevento che perde ancora vince la Roma per 2-0 che adesso si giocherà l'accesso nella finalissima contro la Vigor Perconti